Ciao a tutti ragazzi, qui è Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Con nuove gare stunt, oggi partiamo con il Dune Che sarebbe insomma questo fuoristrada veramente incredibile 3, 2, 1 e si parte subito Allora, altri hanno preso la moto e li schiacciamo subito Merda, quello non è morto Allora, come vedete abbiamo una gara veramente incredibile I veicoli consigliati erano appunto questi ragazzi Dune, questi insomma camion veramente strani Nulla, altri hanno preso le moto Però appunto io ho preso il veicolo consigliato Vai, velocità, velocità Ci stiamo per fermare Attenzione Ok, ok, comunque siamo in tantissimi La gara non ha giri E da punto a punto non spingetemi Che cazzo uno ha preso, uno ha preso pure il quad ragazzi Vai col turbo Ok, perfetto ragazzi Quello col quad morirà malissimo Via dalle palle Attenzione lo schiaccio No, ce l'ha fatta È riuscito, è riuscito ad andare avanti Incredibile Comunque ovviamente i giocatori con le moto Cioè sono andati Vabbè, io ho preso il veicolo consigliato Da bravo giocatore Che poi, boh, spero non riescano a concludere Anche se comunque ce la faranno ragazzi Perché quelle moto vanno ovunque Allora, qui ci siamo Checkpoint preso Vai, andiamo giù Oh, 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 oh Stabilizziamo il tutto Quello si è cappottato Che cazzo è? Ok Stavo facendo Praticamente tutta la rampa Non so, al contrario Sotto sopra Allora, qui si va la grande ragazzi Tentiamo un front flip Vai, stunt estremi Cazzo, atterra bene Ok Oh merda Che cazzo è? Era atterrato bene Perché ha le sospensioni Che sono veramente assurde Questo camion Comunque Uh, il checkpoint è lì Eh, dobbiamo fare Tipo il wall ride Vai Ok, ce l'abbiamo ragazzi Eh, quello si è messo in mezzo Non mi ha fatto fare la curva Merda Vediamo di girarci Eh, la moto forse è qui Potrebbero avere dei problemi Non lo so Vai, prendi il checkpoint Ok, perfettissimo Ci siamo Rimettiti bene da questa parte Merda Se quello non mi avesse colpito prima Avrei fatto tutto di seguito Vai qui Ok, checkpoint preso Riscendiamo alla perfezione con calma Perfetto ragazzi Ci siamo Mamma mia Ma poi qui si va Sempre su due ruote Allora quel turbo Me lo sono perso Ma noi Ma perché è in penna? Non lo so Ragazzi è incontrollabile Cioè veramente È incontrollabile questo Veicolo Vai, vai, vai Al massimo Al massimo Altro turbo Ora Siamo sempre in settima posizione Cioè praticamente da quando siamo partiti Fino Fino ad ora Sono sempre stati in settima Più o meno Allora abbiamo adesso un checkpoint Lì abbastanza Semplice da prendere E poi Non lo so Vedremo un po' Ecco Ecco Qui ci sono ragazzi Quelli con le moto Va benissimo Questa cosa mi piace Mi fa piacere Perché voi non avete preso I veicoli consigliati E quindi dovete rimanerci fottuti Attenzione No vedete No vabbè Assurdo Questo è il veicolo Con la fisica più strana Di tutto il gioco Veramente Comunque c'è quello col quad Che sta andando più lontano di me Questa cosa non va bene Questa cosa non va ragazzi Allora Attenzione Ok ci siamo Riparti 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 Merda Eh vedete Se ne va su due ruote È incontrollabile Allora Vediamo un po' Nulla Abbiamo praticamente Tutte queste Mega Cunette Da superare Poi lì Che cazzo c'è Non lo so ragazzi Questa gara È stranissima È stranissima Allora vai Vabbè Mamma mia Mamma mia È incontrollabile Cioè se ne va su due ruote È più facile andare su due ruote Che farlo Che farla andare avanti normalmente Cioè Ve lo giuro È più facile in quel modo Allora Nulla Dobbiamo farci Quel percorso Ok È simile a quello di prima Però forse Però forse Le discese sono Insomma Meno lunghe Dovrebbe essere così Comunque noi andiamo Uh uh Vai giù Vai giù Vai giù Con calma Perfetto Ora saltiamo da questa parte No bellissimo Comunque Veramente ragazzi Una gara Assolutamente particolare Ok Perfetto Quello è rimasto Fortunatissimo Perché Non Si mi sta facendo pure il medio Vieni qui Rallento un po' Rallento un po' Che ti schiaccio Nella maniera Più brutale possibile Allora andiamo avanti Nulla Stiamo continuando È bella È bella come gare Perché È diversissimo Vai che Merda Se ti prendo Se ti prendo Sei fottuto Se ti prendo Sei fottuto Ti schiaccio Completamente Vediamo un po' Ragazzi Si è allontanato Di nuovo Quello Vabbè Niente da fare Le moto sono più veloci Non c'è niente da fare Cos'è C'era uno che è tornato No Non dirmi L'ho colpito Ragazzi Forse ho colpito qualcosa Qualcuno Non ho idea Comunque gli altri Tornano indietro Allora Noi andiamo Ora prendiamo questo checkpoint Vediamo Andiamo tipo a sinistra Ah Niente Pensavo di schiacciarle Invece no Invece no Occhio Manca l'ultimo Checkpoint Dopodiché il traguardo Va benissimo Cosa buona Perché Mamma mia Impressionante Come gara Andiamo Non morirmi ora Per favore Ok No Ci scontriamo con quello Ok Ma Quello che cazzo Cioè Quell'altro giocatore Aveva preso proprio Un altro Fuoristrada Allora Io Qui ci sono ragazzi Spero di andare Vedete È impossibile Cazzo Vai 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 Ok Sono riuscito a risalire In qualche modo Un altro Con la moto Mi ha superato E niente Questi qui Con la moto Vanno proprio Alla grande Nulla Ci stiamo avvicinando Ormai Nell'ultima parte Io devo sempre Controllare Ogni minimo movimento Di questo Di questo camion Cazzo E vedete Saravate su due ruote Cioè incredibile Eppure dovrei provarci A fare una gara Tutta su due ruote Comunque Alcuni Non concluderanno Sicuro Alcuni Non concluderanno Ragazzi Il primo Ha già concluso Con le moto Ovviamente Questo non c'è dubbio Che cazzo Quello Quello fai super front flip Oh Ok mi ha sfiorato Perfetto No se vengo colpito qui È un problema Ma soprattutto se Se per qualche motivo Cadi giù Ti devi rifare tutto Cioè proprio Bellissimo Veramente bella Come cosa Allora andiamo Prendiamo l'ultimo Checkpoint No vedete In penna Va su due ruote Qui c'è di nuovo Quello col quad Vieni qui Vorrei schiacciare uno Ragazzi Così giusto per Avere un po' Oh C'è quello col medio Via Togliti dalle palle L'ho schiacciato Ragazzi Forse l'ho schiacciato Forse sì No È rimasto Le sopravvissute Ah bastardo Eh però Ci avevo Ci avevo provato Comunque Niente Qui continuiamo Ad andare su due ruote Non ci ricompariamo Cazzo mi sono perso La piattaforma Pensavo fosse tutto uguale Invece no ragazzi Oh merda Ora conclude Se conclude L'ottavo Parte il countdown Vai qui Cazzo Stavo sbagliando di nuovo Eh ragazzi Eh vedete Se ne va su due ruote Andiamo un attimo Con calma Allora Cerchiamo di prendere Tutte le piattaforme Anche quello col fuoristrada Mi ha superato Ora c'è rimasto fottuto Eh perché lì Infatti Lì era aperto Attenzione Frena Ok giriamo Niente siamo in ottavo Un altro con la moto Giustamente Mi ha superato Vediamo se posso schiacciare quello Prendilo in pieno Forse lì Forse l'ho superato All'ultimo Non lo so Comunque sia Abbiamo concluso questa gara Veramente incredibile Eh ragazzi Ovviamente tutti i primi Erano quelli con la moto Io ho preso Il Il Dune Perché era Insomma il veicolo consigliato Alcuni non concluderanno Però devo dire Che forse era meglio Prendere la moto Perché cazzo Cioè È incredibile Impenna Va su due ruote Si gira Le sospensioni fuori dal normale Cioè questo veicolo È Veramente Assurdo Comunque sia Molto bella Adesso ne andremo a fare un'altra E rieccoci qui Adesso con le moto Ho preso La Bati Questa volta Versione Sprank Allora Vediamo un po' Siamo All'aeroporto Di Gran Senora Desert 3 2 1 E si parte subito col turbo Allora Andiamo Questa volta Abbiamo tutti le moto Quindi Non posso Faccio il medio A quello lì ragazzi Il medio a tutti Mamma mia Devo prendermi la mia Rivincita col medio Cioè perché Via Medio Medio In continuazione Medio per tutti voi Allora Vediamo un po' Vai che qui me li mangio Tutti ragazzi Andiamo a sinistra Vabbè C'erano due vie Io ho preso I checkpoint Iniziali Qualcuno Mi sa che vola No No non è volato nessuno Stranamente Comunque Si spingono tutti Allora andiamo Questo ce lo mangiamo Vai 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 Entriamo qui dentro Perfetto Turbo turbo Che cazzo è Ok niente Non lo so C'erano delle rampe spezzate Quei bastardi Mi avevano spinto fuori Qui andiamo ragazzi A sinistra Subito Subito Via 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 Qualcuno sta prendendo la mia scia Andiamo Checkpoint preso Vai Ok qui ci siamo Prendiamo anche questo E ripartiamo subito Vai 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 Ok siamo in Prima Prima posizione Medio Medio per tutti Andiamo Ok Allora nulla Una gara Veramente semplice Non c'è nulla Ragazzi di complicato Ora mi superano con la scia Quei bastardi Andiamo vai Tentiamo un po' Di arrivare qui Ora con la scia Penso ci rifaremo Perché Cioè tutti si recuperano E Ragazzi è così Mi ha fatto mancare il checkpoint Non ci credo Non ci credo Cioè Quello mi ha spi Eh anche lui Anche lui non l'ha preso Vabbè comunque Non so Non so a questo punto Se riusciremo a recuperare Perché c'era soltanto un giro Vabbè Niente Vabbè Le cose assurde Che succedono Allora questo qui Lo superiamo senza problemi Vai andiamo con la scia Ok superato Vai curve 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 Checkpoint preso Andiamo Andiamo al massimo Niente comunque Incredibile C'è Il checkpoint Il checkpoint era al centro Ma quello lì Non me l'ha fatto prendere Veramente ragazzi Una cosa incredibile Allora andiamo qui Facciamo la curva Siamo in quattordicesima Niente hanno concluso tutti La gara è durata Veramente Veramente pochissimo E niente Qui andiamo A prenderci la nostra Bellissima Quattordicesima Posizione Cazzo se quello Non mi avesse Non mi avesse ragazzi Spinto Magari Non dico Esseremmo arrivati in prima Però quantomeno nei primi Quello è arrivato ultimo Sì quello che fa sempre il medio C'è rimasto fottuto Questa volta Ragazzi che dire Spero che il video vi sia piaciuto Abbiamo giocato due gare Veramente belle Diverse dal solito E la prima è stata Veramente Veramente strana Qui è Dextra Lasciate un bel mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao Al prossimo episodio